Zotta, prego consigliera, per dieci minuti ne ha facoltà. Grazie Presidente, devo ringraziare la collega Di Biase per aver raccolto la richiesta di sospensione. Solo per dire che la Commissione, già nel corso della riunione che si è tenuta per esaminare questa proposta di delibera, aveva espresso un parere favorevole, condizionato però a una salvaguardia di tipo economico e anche per allineare tutti i municipi, tutti i nidi, nello stesso protocollo. E non era ben chiaro, proprio perché era mancata la presenza della consigliera in Commissione, appunto quello che era tutto l'iter che avrebbe portato poi all'approvazione e all'inserimento nei nidi di quanto proposto. Quindi abbiamo proposto come Commissione, ora in questo momento di sospensione, quindi anche con l'accordo della consigliera Di Biase, di aggiungere nel deliberato, alla seconda riga appunto del secondo punto del deliberato, di provvedere a tutti gli adempimenti amministrativi e contabili, quindi l'aggiunta è contabili. Siamo contenti di questa proposta, e quindi esprimeremo parere favorevole, proprio perché si allinea a quelle che sono adesso un po' le tendenze pediatriche, ossia quello di favorire finché è possibile l'allattamento al seno del bambino. Quindi il voto del gruppo di maggioranza sarà sicuramente positivo. Grazie. Scusi, consiglierà.